io oggi ho veramente il piacere di parlare con riccardo magnani del suo recente lavoro su sulla non scoperta delle americhe appena uscito quindi diciamo è disponibile online riccardo volevo parlare di questo lavoro perché perché a me piace molto parlare con diciamo ricercatori esperti che si occupano di andare poi a sviscerare delle vicende che spesso nascondono il mistero ma molti mi dicono a te piacciono i misteri in realtà a me non mi piacciono affatto i misteri mi piace più colmare quelle lacune che creano il mistero e quindi tu in questo lavoro nello specifico fai esattamente questo cioè hai scritto un libro che parla di come in realtà non è stata affatto scoperta l'america quindi prego allora io non prego più da tanto invece allora eh innanzitutto ciao Antonio grazie per avermi chiamato eh sì è verissimo quello che dici tanto che io sono sempre solito dire che il mistero non esiste no è solo una lacuna indotta di conoscenza spesso indotta di conoscenza proprio perché c'è una manipolazione a monte e perché quello del mistero è di fatto un mercato speculativo in cui tanti ci marciano no cioè l'uomo è per sua natura portato a essere attratto dal dal mistero da quello che non conosce eh l'attrazione stessa si basa su questo nascondere revelare le cose no e e quindi di fatto eh basta omettere un paio di particolari automaticamente qualcosa diventa misterioso diventa affascinante ma in realtà eh appunto non non è così quindi eh andando incontro alla conoscenza eh automaticamente il mistero svanisce evapora come neve al sole questo che oggi nevica e questo periodo eh e quindi niente da economista perché io nasco economista mi sono trovato in questo percorso di ricerca e di studi quasi eh in maniera involontaria 14 anni fa e probabilmente con un approccio analitico particolare eh sono riuscito a andare al nocciolo delle questioni in maniera abbastanza facile in questo sicuramente mi ha aiutato il fatto di non avere una preparazione pregressa quindi qualunque informazione eh io raccogliessi da quello che era davanti a a me in quel momento lo potevo analizzare senza nessun tipo di preconcetto quindi nel caso specifico se mi trovo davanti a una mappa delle americhe anche se è datata 1450 per me resta una mappa delle americhe e quindi vado ad approfondire quello che comporta non è un mistero è semmai eh un'informazione un input che mi porta a indagare eh in effetti eh poi indaga e ti indaghi e le situazioni si si dipanano no quindi quella mappa non è più unica iniziano ad essere due o tre quindi quella che è una mappa ritenuta unica eh e quindi anacronistica diventa una mappa che trova dei fratelli delle sorelle legati a delle situazioni familiari delle situazioni politiche quindi si sviluppa una narrazione che è completamente diversa dalla narrazione che ci è stata consegnata e che è stata in parte manipolata da chi da quei propositori eh del mistero cioè di chi eh omettendo delle conoscenze di fatto crea delle situazioni di mistero fittizio che appunto non esistono e poi in realtà ehm cioè è la storia classica è la storia che comunque tutti conoscono e tutti studiano e nello specifico dicevo proprio del discorso della scoperta delle americhe perché poi già dire che le americhe sono state scoperte è già una forma come dire un po' di arroganza da parte del mondo occidentale perché c'era già una cultura anche enorme da quelle parti quindi per noi è la scoperta delle americhe loro c'erano già insomma sì questa è la tesi con cui eh inizio questa mia eh disamina no cioè una una questione di onestà intellettuale ehm tu hai parlato bene detto prevaricazione perché noi europei dobbiamo dobbiamo parlare di scoperta dell'america e perché questo elemento deve diventare eh fondativo in tutto quello che poi è lo sviluppo storico della storia del mondo perché questo è eh di fatto appunto l'america esisteva era abitata era abitata dagli inca dai dagli astechi toltechi quindi da tutta una serie di civiltà che in quel periodo erano molto floride si basavano sul culto solare sulle conoscenze delle leggi naturali quindi perché omettere questa parte di storia vuol dire eh impostare uno sviluppo eh storico europa centrico il che vuol dire mettere in subordine eh gli amerindi eh adesso lungi da me fare battaglie in difesa cioè indianica o poi e queste cose però è un dato di fatto ed è un elemento di onestà intellettuale che non può mancare nessun ricercatore o studioso eh il fatto che eh in quel momento le popolazioni native delle americhe in molti casi erano molto più avanzate rispetto alle popolazioni europee assolutamente che uscivano da un medioevo buio in cui la chiesa imponeva tutta una serie di eh comportamenti e condizionamenti coercitivi molto forti quindi già nella definizione di fondo eh c'è un approccio che è completamente sbagliato che è un approccio da non sottovalutare perché poi ce lo portiamo dietro eh all'infinito cioè l'europeo o l'uomo occidentale eh è sempre superiore è una forma di superiorità culturale che poi in effetti quindi questo è un elemento di violenza intellettuale che è l'anticamera di quella violenza materiale che poi si è esercitata nel momento in cui gli spagnoli avendo preso il dominio e il controllo delle americhe hanno esercitato sui popoli nativi quindi questo è un primo vizio di forma eh il secondo vizio è legato appunto a quelle mappe di cui parlavo prima cioè esiste tutta una serie di mappe eh che raccontano la presenza di territori nel mezzo dell'oceano pacifico non due isolette americano nord americano sud a partire dagli inizi del 1400 questo perché perché le conoscenze geografiche dell'epoca che eh erano costruite sulle conoscenze di Ptolomeo eh quindi il geografo eh greco portate in Europa da Manuele Crisolore che era un bizantino a cavallo tra il 1300 e il 1400 eh dicevo esiste tutta una serie di eh mappature delle americhe che fanno sì che le americhe stesse erano conosciute già da tempo addirittura con tutta una serie di evidenze eh cartografiche relative ad esempio ai poli eh che lasciano presupporre che queste conoscenze fossero addirittura antichissime perché per mappare un territorio vuol dire che il territorio deve essere libero quindi per mappare le Antartidi e l'Antartico e l'Antartico privi di ghiacci vuol dire che dobbiamo ritrodatare la eh conoscenza almeno all'ultima deglaciazione eh quindi non solo nessuno ha scoperto l'America ma ha addirittura sotto un profilo cartografico le americhe erano conosciute da tantissimo tempo. Io volevo un attimo entrare in un certo tipo di discorso cioè che oltre a queste cose che abbiamo un attimo anticipato cioè questa supremazia culturale che porta a ritenere noi scopritori di culture assolutamente fantastiche poi parliamo di Sud America in realtà all'inizio perlomeno eh Maya in primis. Perché lì era la vera ricchezza no? Eh quindi non era interesse a sviluppare una così una colonizzazione di territori sterili e poi perché il motivo vero scusami della eh della presunta scoperta eh era riaprire quelle rotte verso oriente che l'avanzata dei turchi eh con la presa del eh di Costantinopoli aveva interrotto quindi il motivo primo vero eh era di un motivo vero che era riattivare delle rotte commerciali poi la chiesa ci ha messo il suo con la necessità di ampliare eh così eh l'evangelizzazione ma di fatto l'America del Nord era fuori dalle rotte commerciali e quindi non c'era interesse. Fermo restando che poi non c'era un interesse perché non c'era nemmeno delle ricchezze territoriali cioè la vera ricchezza era America Mesamerica e America del Sud certo diciamo per chi analizza no un po la storia con un occhio un po critico ma anche con un minimo di logica sembra piuttosto improbabile che diciamo i potenti un re o comunque una spedizione potesse partire così all'arrembaggio davvero quasi come fosse all'epoca potrebbe essere considerato un viaggio sulla luna cioè privo di un interesse privo di cognizioni pratiche pragmatiche cartografiche è piuttosto di dubbio diciamo allora una scommessa è senz'altro il termine più appropriato la risposta viene appunto nella conoscenza delle cose cioè se tu analizzi nello specifico le vicende legate a Cristoforo Colombo e alla sua spedizione e analizzi tutto quello che è il materiale documentale che invece la storia vale a dire i musei o i dipinti ti possono comunque aiutare a recuperare automaticamente ti rendi conto che il 12 di ottobre è una data che attiene alle prime spedizioni all'inizio del Quattrocento il naufragio e quindi lo sbarco sull'isola di Guanan perché poi questa era il primo approdo di Colombo è in realtà l'isola Antiglia che era già mappata nel Quattrocento e che diventa poi l'isola di San Salvador e che guarda caso è presente addirittura in un manoscritto del 1447. quindi ti rendi conto che quella vicenda di Colombo che apparentemente è una scommessa immotivata sostenuta dai reali di Spagna eccetera eccetera non è altro che l'insieme di tutta una serie di elementi che sono occorsi alle prime spedizioni allora capisci perché per giustificare Colombo si inventa una storiella che ha a tutti gli effetti i canoni dell'azzardo completo la tesi di fondo alla base del tuo lavoro non è semplicemente che l'America è stata scoperta in realtà è stata scoperta prima o comunque era già conosciuta il discorso è che proprio tutta la storia è costruita fondamentalmente o comunque anche la figura stessa di Colombo sono da rivedere insomma è una sì allora come detto prima io nasco economista quindi la peculiarità dell'analista è quello di comprendere le dinamiche con cui una certa situazione si manifesta e poi eventualmente porre rimedio oppure adottare una strategia oppure no in questo caso lo studio della storia e della storia dell'arte perché poi tutta l'arte rinascimentale impregnata di queste vicende è essenziale per comprendere come si sia creata la società di oggi quindi tutto quello che io porto in evidenza è legato a degli elementi storici o storico-artistici di fatto non è fine a se stesso perché in ultima analisi ci aiuta a comprendere quello che noi siamo oggi che forse è la parte più importante uno per comprendere come sono o come siano le dinamiche all'interno della società moderna e in secondo luogo comprendere come ci siamo arrivati cioè quali sono stati gli artefici di questa manipolazione perché di vera e propria manipolazione si trattano allora automaticamente comprendi come i valori messi in campo o le diverse attribuzioni di potere o comunque di separazione politica, economica, geografica non sono altro che il frutto di un cambio delle regole in corso cioè a un certo punto della storia con la regia del papato la Spagna e il Portogallo si sono divisi il mappamondo come quando giochi a risico di fatto esattamente come dici escludendo la Francia, escludendo l'Inghilterra, escludendo l'Olanda che era a quell'epoca molto forte sotto il profilo commerciale e abbiamo detto che le rotte commerciali erano importanti e quindi di fatto creando una situazione politica fintizia, virtuale cioè indotta attraverso non un naturale sviluppo delle cose ma attraverso una facilitazione un po' come quando la Juventus paga gli arbitri e questo è importantissimo, ripeto non solo per eludere il personaggio Cristoforo Colombo che è un personaggio totalmente inventato e di fantasia o eludere questo concetto pericoloso nella forma mentis di ognuno di noi cioè pensare che qualcuno sia superiore a qualcun altro solo in virtù di un processo analitico non certo per un processo qualitativo, effettivo ma è importante proprio per capire dove o come siamo arrivati alla situazione di oggi e come porvi di rimedio non è una cosa di poco conto non è stato da poco no, prima ti ho detto della storia dell'Antartide prima di Ghiaccina e normalmente uno dice ah porca miseria allora è vero ci sono delle conoscenze molto antiche sì, ma non è questa la lettura ci sono delle situazioni climatiche che sono cicliche questa è la lettura quindi quell'allarme climatico che oggi noi stiamo vivendo per cui tutta l'economia si sta dirottando su una scelta di green economy in realtà è nuovamente un artificio per dominare un sistema capitalistico o convertire un sistema capitalistico che è arrivato alla fine del suo corso e ha bisogno di iniziare uno nuovo come invento questo nuovo corso? creando una nuova forma di schiavitù che è quella della green economy ieri è uscita la notizia su People di quanto ha guadagnato Greta nel corso dell'ultimo anno non parla di 82 milioni in realtà, ripeto, è un falso problema il vero problema non è l'emergenza climatica ma è l'emergenza inquinamento cioè l'inquinamento che è un sistema di capitalismo frenato con consumi indotti e non certo primari ha creato o grava sul pianeta questo è un altro discorso l'aspetto climatico non esiste proprio perché c'è una ciclicità ripetitiva che gli stessi scienziati quelli veri, non quelli dogmatici sostengono e che la si può leggere appunto attraverso una ricostruzione della cartografia in questo senso quindi questo è un elemento importante ad esempio per i giovani perché capiscono che tante volte studiare non è finalizzato a portare a termine l'interrogazione ma a creare tutta una serie di conoscenze di filtri che poi ti permettono andando avanti di essere sempre più solido e meno manipolabile però voglio dire già il discorso è molto pieno di significati anche piuttosto formativo perché poi porta a farsi diverse domande però nel mentre hai lanciato quella che io ho già ascoltato questa e poi non è una teoria perché tutti basi su prove e su fatti assolutamente riscontrabili e cioè che Cristoforo Colombo è un personaggio fittizio allora sì io all'inizio del libro dico che al di là delle prove documentali conta sempre avere il buon senso addirittura nell'ordinamento giuridico c'è il buon atteggiamento del padre di famiglia come se il padre di famiglia dovesse avere buon senso purtroppo non ci sono più il padre di famiglia con buon senso comunque al di là di quello quando io dico che Cristoforo Colombo non esiste attiro ovviamente tantissime critiche immagino ok allora specifico il Cristoforo Colombo che il 12 ottobre 1492 a bordo di tre caravelle facendo un naufragio arriva a scoprire le Americhe quello non esiste proprio perché a livello documentale qualcuno il 12 ottobre facendo un naufragio sbarca sulla stessa isola costruisce lo stesso palazzo fortezza che è la fortalezza di Osama a Santo Domingo quindi per forza di cose non solo ci sarebbe un antesignano del Cristoforo Colombo ma addirittura avrebbe vissuto tutte le stesse vicende quindi è chiaro che quello diventa quello di Colombo diventa una imitazione di qualcosa che è già avvenuto quindi quel personaggio non esiste è stato inventato chiaramente diciamo che i personaggi di un certo calibro magari non inventati ma comunque piuttosto formati ce n'è nella storia esattamente dei più noti esattamente però al di là di questo e quindi per non cadere nel nel fare di tutta l'erba un fascio è un dato oggettivo cioè ripeto è un elemento di buon senso mettendo insieme tutti gli elementi documentali e ribadisco documentali quel Colombo non esiste allora ti scrivono le associazioni genovesi di Savona Liguri comunque in generale che dicono no esistono dei documenti in cui Cristoforo Colombo ammette di essere nato o di avere a quell'epoca 19 anni sì ma questo cioè al di là di essere una sorta di autocertificazione sappiamo in Italia l'autocertificazione come funziona ma il fatto che una persona che di nome fa Cristoforo Colombo dice che nel 1470 aveva 19 anni non mi dice niente io dico il Colombo che il 12 ottobre ha fatto sbarco non esiste è chiaramente un'invenzione di chi poi guarda caso si è spartito il mondo e chi guarda caso nel corso di un secolo perché poi a livello documentale la prima frequentazione dell'America risale al 1414 e fino al 1492 è un secolo a tutti gli effetti includiamo il trattato di Tordesillas che è il 1494 che è quello che spartisce i territori fra Spagna e Portogallo c'è un secolo in cui rianalizzando le bolle papali si vede come le bolle papali indirizzino o legittimino i due reali di Spagna e Portogallo allo sfruttamento della schiavitù delle popolazioni pagane in realtà fa proprio riferimento alle Americhe quindi c'è tutta una serie di documenti che letti alla luce di una rivisitazione documentale inchiodano la storia non se ne esce quindi purtroppo Colombo non esiste mi spiace è chiaro che è complicato da accettare come molte cose che però per chi poi vuole andare ad analizzare è molto più onesto e anche interessante secondo me andare a valutare la storia poi sulla base di riscontri che grazie anche alla rete possono essere anche confrontati in questo periodo cosa che diciamo decenni fa era piuttosto difficile se non impossibile sì anche se è un po' sempre pericoloso perché la rete assolutamente bullula poi invece di ulteriori fake news di femenze sicuramente però c'è di fatto più di un collegamento tra molte culture apparentemente non in contatto che è riscontrabile quindi quella che è la tua che poi non è una tesi quella del tuo lavoro è semplicemente una dimostrazione una dimostrazione esatto cioè che che qualcosa si conosceva del mondo del Sudamerico comunque anche prima di Cristoforo il problema qual è che chi ha manipolato il corso della storia così come manipola chi manipola il i contenuti dell'arte in generale automaticamente riempie le aule dell'accademia automaticamente riempie le case editoriali di chi scrive i libri che poi sono i libri che servono per la didattica e quindi è naturale che un certo tipo di rivisitazione o di narrazione non venga accolto di buon grado anche perché vorrebbe dire riscrivere i programmi scolastici vorrebbe dire buttare al macero una quantità infinita dei libri vuol dire buttare al macero non so quante celebrazioni si facciano per Colombo nell'anno vuol dire buttare al macero l'immagine di un'Italia che è stata costruita su poeti santi navigatori cominci a togliergli santi cominci a togliergli navigatori voglio dire rimane poco però l'onestà di ognuno di noi dovrebbe essere quella che dici cioè c'è un elemento comprovato nuovo automaticamente diventa un elemento di conoscenza attorno al quale si sviluppa una narrazione diversa invece no viene vissuto come una prova della mia margolaggine diciamo così e quindi mi mette con le spalle al muro quel documento deve sparire un po' come che ne so beh sì una prova documentale che esce in un processo e quella prova deve sparire perché automaticamente siccome diciamo tu sei uno dei possiamo dirlo dei principali ricercatori sul Leonardo no oltre a che a questa vicenda insomma della scoperta delle Americhe io immagino di sì però la vicenda o comunque le conoscenze di Leonardo si incastrano in qualche modo con questo discorso della non scoperta delle Americhe allora le vicende di Leonardo si incastrano come tutta la storia del Rinascimento per ovvi motivi innanzitutto Leonardo stesso è figlio di una manipolazione che non è difforme da quella della delle vicende delle Americhe perché perché Leonardo incarnava quel movimento culturale che passa sotto il nome di Neoplatonismo che dà origine al movimento rinascimentale che è incentrato sulle conoscenze pagane quindi le antiche conoscenze del mondo greco egizio bizantino e questo movimento che è si è diffuso a macchia d'olio a partire dal 1438 prima Ferrara e 39 a Firenze con il concilio che Cosimo il vecchio ha ospitato facendo convenire dignitari da tutti i paesi di estrazione pagana ho ritenuto tali perché fondavano il loro culto religioso sul culto solare sulle leggi naturali sui canoni greci eccetera eccetera la chiesa non l'ha gradito tantissimo quindi Leonardo incarnando questo movimento e diventando il testimone primo di questo movimento raccogliendo direttamente il testimone del gemisto pletone automaticamente diventa un personaggio scomodo per la chiesa o comunque per una narrazione che è incentrata sul dogma religioso cattolico quindi non solo la biografia di Leonardo ma l'opera stessa sua sono fortemente manipolati e questo è il lavoro che ho fatto l'anno scorso è il lavoro principale da cui poi sono partito per arrivare al discorso delle Americhe e alle conoscenze della lettura dell'arte rinascimentale ma chiaramente avendo lui vissuto il secolo in cui le vicende delle Americhe si sono sviluppate e hanno ad esempio condotto alla congiura dei pazzi piuttosto che a una familiarità e non a caso dico familiarità fra la famiglia Sforza e la famiglia dei Medici che sono le due famiglie che hanno ospitato ed hanno dato protezione a Leonardo chiaramente tutte le sue vicende biografiche risentono di questa situazione dicevo la congiura dei pazzi è strettamente connessa alla storia delle Americhe e Leonardo scappa una seconda volta verso Milano proprio per sfuggire agli atti cruenti della congiura dei pazzi che erano avvolti a colpire tutti gli esponenti della famiglia dei Medici di cui Leonardo faceva parte ma non solo come dicevo Leonardo ma tutto la tutta l'arte rinascimentale impregnata di queste vicende Pisanello Piero della Francesca Botticelli nelle loro opere inseriscono tutta una serie di elementi che risultano essere degli elementi di denuncia di quello che stava accadendo e che la narrazione storica legata al polo Vaticano cercava di eludere per raccogliere e la seconda parte del libro che tu hai dietro verterà proprio su questo aspetto cioè come all'interno delle opere d'arte più conosciute del rinascimento ci siano di fatto degli elementi stringenti che raccontano di queste conoscenze l'esempio più lampante come dicevo è la nascita della Venere di Botticelli che è un dipinto che penso anche i sassi conoscano e che è l'emblema iconico proprio del movimento rinascimentale oltre che di Firenze che narra proprio dello sbarco nell'America cioè i venti che soffiano che sono in teoria lo spirito vitale che anima la Vergine che nasce dalle acque in realtà sono Aura e Zefiro che sono due venti che venivano utilizzati per l'attraversata transoceanica e i veli con cui una delle ore veste la Vergine le nudità della Vergine sono esattamente una rappresentazione geografica dell'America del Nord e dell'America del Sud quindi in quel dipinto che è il dipinto iconico di tutto il Rinascimento viene raccontato proprio l'elemento principe attorno al quale ruota tutto il cambiamento del mondo intero più ancora di quello che sarà poi la rivoluzione rinascimentale perché la rivoluzione rinascimentale viene di fatto stoppata nel 1459 con il concilio della dieta da parte di Pio II e poi la messa in atto di tutte quelle strategie con cui la Chiesa la Spagna il Portogallo la Germania hanno costruito le vicende delle Americhe così come noi le conosciamo essendo diciamo anche tra i più noti esperti dell'arte rinascimentale immagino no converrai con me che l'artista diciamo i grandi artisti spesso non potevano esplicitare le loro conoscenze e il loro pensiero e quindi le interpretavano molto spesso sotto forma simbolica diciamo con delle raffigurazioni particolari a me spesso è venuto a pensare che queste tre caravelle cioè il numero tre non è immagino casuale in questo tipo di storia o no o è solo una mia diciamo allora non c'è nulla di simbolico nella nella scelta delle caravelle io sono quasi convinto che addirittura fossero quattro però non riesco ancora a trovare una prova definitiva della presenza della quarta anche se ci sono alcuni indizi che lo lasciano pensare è vero che l'arte rinascimentale ha al proprio interno tutta una serie di contenuti che trapassavano quello che era l'iconografia di stampo religioso che era una sorta di paspartout che permetteva all'artista di presentare delle opere i cui contenuti poi erano chiaramente ispirati da quel movimento neoplatonico di cui dicevamo prima quindi tutta l'arte o gran parte dell'arte rinascimentale ha una seconda lettura che è quella che esula dall'impianto iconografico primo prima abbiamo parlato di Leonardo Leonardo cambia in corso d'opera tutti i riferimenti iconografici tutti dettando uno stile nuovo se tu pensi alla Gioconda che non è il ritratto di Mona Lisa se tu pensi all'ultima cena se tu pensi alla Vergine delle Rocce che di fatto è una Madonna dei Fusi automaticamente comprendi come tutta l'iconografia di quel momento religiosa venga completamente stravolta proprio per dare invece un riferimento e dei contenuti che contenevano quei canoni greci che si rifacevano alle leggi naturali quindi poi a Sezione Aurea Fibonacci eccetera eccetera oppure delle vicende stesse della politica del tempo c'è un ciclo di quattro dipinti non affreschi di Botticelli che narra delle vicende di Nastagio degli Onesti Nastagio degli Onesti è una novella boccaccesca ma in realtà Nastagio Vespucci è il padre di Amerigo Vespucci che sposa Nana degli Onesti quindi Nastagio degli Onesti è il padre di Amerigo Vespucci nelle cui vesti alberga il personaggio che poi la chiesa Portogallo e la Germania utilizzeranno per intraprendere a sua volta delle navigazioni verso le Americhe e c'è proprio Amerigo Vespucci però è esistito davvero sì sì Amerigo Vespucci è esistito ma oramai è arrivato per ultimo non so come dire in quegli anni la navigazione verso l'America sembrava di andare sembrava di essere sulla 1 nelle giornate primaverili quando ci sono i primi soli c'era un via vai continuo verso questi territori per evangelizzare per evangelizzare perché era era il primo appena tornato dal Peru perché ho delle degli affari che mi stanno molto a cuore lì legati a delle scoperte che ho fatto e e quindi sono andato per girare del per fare delle riprese perché faremo un documentario e e mi ha molto molto corpito nonostante abbia approfondito le vicende della scoperta dell'America il conquistador spizarro eccetera eccetera ci sono due cose che riporto anche nel libro che mi hanno molto molto colpito una è a Cusco dove c'è la corricianca che era il tempio del sol fantastico rivestito d'oro eccetera eccetera la cosa che mi ha impressionato è che i conquistadores i domenicani nel caso di specie perché poi i domenicani hanno un ruolo essenziale hanno costruito non sopra il corricianca cioè come se ci fosse una linea di continuità e quindi di rispetto di una storia ma hanno proprio inglobato il convenicano sopra come le scatole cinesi come a nascondere a sopprimere a soffocare e questa cosa mi ha veramente segnato cioè è una un atto è una dimostrazione di una prevaricazione violenta fisica cioè visibile fisicamente è uno stupro io l'ho vissuto proprio come uno stupro di non coprire e che non ti racconta nessuno e finché non lo vedi ti ripeto io l'ho studiato ne ho scritto ma quando me lo sono trovato davanti in quel modo mi ha veramente toccato profondamente e mi ha toccato il fatto che girando chiaramente per per siti archeologici o comunque tutto quello che atteneva alle antiche conoscenze peruviane inca fuori dai circuiti moderni quindi fuori dalla cristianità che comunque pervade chiaramente quel paese nuovamente vivi quelle antiche conoscenze quindi le guide ti portano in alcuni posti in cui ti parlano di spiritualità ti parlano di dualità ti parlano di energia maschile femminile legata al ciclo solare al ciclo lunare quindi delle conoscenze molto profonde che ancora oggi l'Europa non vive perché se pensi alle ultime manifestazioni che sono state fatte in salsa pink quindi rosa per cui nandra piuttosto che giovanna atti che parlano di energia femminile per combattere vuol dire proprio non aver compreso nulla ma al di là di questo mi ha fatto molto specie come comunque sotto le ceneri arda ancora questa antica conoscenza e allora ho chiesto a qualcuno come mai nonostante questo poi il popolo il sabato la domenica nelle festività va in chiesa e va in chiesa a seguire il culto cattolico e la risposta è stata disarmante mi hanno detto Riccardo ci hanno fatto vergognare di quelle nostre conoscenze cioè il senso di colpa perde le conoscenze che sono molto più ampie molto più molto meno subordinate è un dogma quindi è un'impartizione e questa cosa mi ha completamente spiazzato quindi quella l'apparente evangelizzazione è effettivamente una facciata che se tu vai nelle Americhe la vivi in maniera molto violenta molto più violenta di come qualunque cronista ti possa raccontare riguardo i dominicani che sono la base di tutta questa vicenda nell'arte rinascimentale i dominicani sono rappresentati sempre come due cani tutti i dipinti li trovi uno bianco uno nero perché perché bianco e nero sono i colori dell'ordine dominicano ma i dominicani sono così chiamati cioè l'ordine dei predicatori di Cristo perché il papa che li ha nominati facendo leva sulla loro fedeltà a Cristo e nella predicazione ha detto voi siete i cani del Signore domini e cani ok e come tali sono rimasti e come tali vengono rappresentati quando viene inventato il personaggio di Cristoforo Colombo Cristoforo Colombo ha una firma cioè Cristo Ferenz è il portatore di Cristo e la colomba è il simbolo del battesimo dello Spirito Santo quindi Cristo Ferenz Cristoforo Colombo è colui che va a evangelizzare nel nome di Cristo quindi è un Domenicano è un Papa veramente sì diciamo veramente interessante io quando hai parlato del del Tempio Gorican insomma ho pensato alla piramide di Cio Lula che non so se hai visitato che molti non sanno forse è la più grande piramide del mondo se non mi sbaglio che sono più piramidi inglobate l'una sull'altra e alla cui sommità c'è una chiesa e come spesso accade in cima a molte strutture precedenti c'è la classica chiesa e diciamo andare no un po' a eviscerare la vicenda di Colombo della scoperta della non scoperta delle Americhe per me è un po' come andare a rimuovere tutti quegli strati che sono stati messi su questo tipo di piramide ma non è affatto l'unica ci sono molte strutture di questo tipo e su cui poi c'è la nostra attuale cultura come lo vedi questo parallelismo? Allora è un'immagine molto bella e descrive effettivamente quello che succede il fatto che la chiesa metta il proprio simbolo sopra quello degli altri non è una novità questo per due motivi uno per un motivo di prevaricazione un po' come il cane quando segna il territorio due perché i luoghi di culto sono sempre costruiti in punti in cui le energie della terra sono molto particolari quindi c'è un obbligo a costruire i luoghi di culto in quei posti il Duomo di Milano sotto a un un duplice come posso dire una duplice struttura un luogo dedicato a Belisama e un luogo dedicato a Minerva che sono la stessa rappresentazione poi i vari mitrei che sono sotto molte abbazie esattamente quindi in questo c'è un vincolo di carattere energetico non non bypassabile però stavo pensando mentre lo raccontavi a un bellissimo libro che sto cercando che è i pilastri della terra in cui si fa proprio questa stratificazione cioè andando in avanti e non indietro come tu hai proposto vedi come le persone in questo caso ho parlato di Belisama e Minerva quindi facciamo riferimento ai certi sceglievano un luogo energeticamente rilevante e gli costruivano il proprio luogo di culto poi arrivavano chi li soppiantava e ci costruiva sopra il proprio questo è quello che purtroppo nella nella vita è successo che in questo libro è raccontato all'inizio molto molto bene e che racconta come la narrazione o l'evoluzione dell'uomo delle conoscenze culturali dell'uomo che non sono le conoscenze assolute ma sono la deriva in funzione di quello che è poi l'adattamento dei rapporti di forza e di potere all'interno di una collettività modifichi la narrazione o comunque quelli che sono i riferimenti di culto non tutti i riferimenti di culto sono giustificabili perché perché l'uomo in ultima analisi non può prescindere dall'unica legge inderogabile che è la legge naturale che determina quei rapporti su cui appunto i neoplatonici costruivano i propri canoni che si manifesta con dicevo sezione aurea a sequenza di Fibonacci che ribadisco sono una conseguenza di quell'ordine naturale non è che l'ordine naturale è così perché c'è e poi anche questo si sente no? Quindi è importantissimo leggere questa stratificazione per comprendere come l'uomo poi in questa ricerca di un dominio in cui a scrivere quella scoperta dell'America cioè il primato che all'uomo interessa sempre e comunque nella ricerca spasmodica di questo primato poi costruisca tutta una serie di architetture per sostenere questo primato e quindi quella legge naturale viene trasformata in una legge dell'uomo che è una legge fittizia piena di corruzioni di bugs che non c'entra assolutamente niente senza però mai poter prescindere dal diciamo luogo energetico insomma esattamente esattamente volevo chiederti questa lettura a ritroso o quello che cercavo di dire prima è come appunto lo studio della storia della storia dell'arte risulta essenziale proprio per comprendere questa stratificazione per comprendere come oggi siamo arrivati qui e come porre rimedio a questo e questo è un lavoro che difficilmente uno storico uno storico dell'arte fa e in questo sono fortunato perché nella mia non conoscenza e ignoranza invece o forse nella predisposizione ad analizzare le cose per prendere delle decisioni ha fatto sì che invece io fossi in grado di scrivere questo percorso e quindi è la cosa di cui vado più fiero cioè dare degli strumenti alle persone non per sapere chi è stato il primo ad andare in America ma per formare la propria capacità critica e quindi poi agire nei confronti della vita in una forma diversa certo assolutamente sì sì un unire i puntini no come si dice spesso che però non è cosa diciamo per tutti perché spesso chi si occupa nello specifico magari di una particolare corrente artistica poi va diciamo a studiare ma dopo grande merito eh molti aspetti legati a quella cosa ma non collaterali o comunque collegati infatti io se posso rubarti altri cinque voti volevo chiederti non so se nel testo se ne parla quello che a me risulta piuttosto evidente che poi mi interessa che porta a collegare non solo queste due culture diciamo europea e americana o sudamericana ma un po' tutto il mondo che è il megalitismo quindi quando tu hai parlato delle varie strutture impressionanti io penso Sacsayhuaman andare a vedere che quello stile diciamo così architettonico comunque quella forma costruttiva è presente anche in Italia in strutture antichissime io credo che un minimo possa portare anche a far accendere una lampadina per dire ma questa cosa della scoperta dell'America effettivamente andrebbe analizzata meglio studiata meglio sì non solo la storia dell'America ma appunto la storia dell'umanità tutta il problema è che con l'avvento delle religioni monoteistiche si è fatta risalire la storia dell'uomo a un periodo molto prossimo a noi non voglio fare polemiche no no che si sono diciamo approcciati i tempi però c'è qualcuno che dice sì insomma la storia dell'uomo nasce 4200 anni fa perché un tale studioso ricostruendo la Bibbia dice questo il problema è che se c'è la spinge che ha dei segni di corrosione che datano 12500 anni fa è quello che dicevo prima la dogmaticità ti impone di non uscire da certi schemi o certe ricostruzioni ma in realtà i fatti documentali invece ti portano altrove ti portano automaticamente esatto e questo altrove è effettivamente nella forma delle costruzioni megalitiche come dicevi quella cosa che sono andato a verificare in Peru fa proprio riferimento a questa cosa cioè c'è una costruzione all'interno della selva amazzonica che triangola con due realtà apparentemente coeva cioè le linee di Nazca e Tiahuanaco a confine Bolivia e Peru che descrivono il triangolo estivo il terzo punto di questa formazione in terra che replica il triangolo estivo è appunto questa città megalitica che si trova al centro della foresta amazzonica e che oggi è abitata dalla più grande comunità di incontattati al mondo cioè esiste un posto all'interno del nostro pianeta che rimane totalmente vergine abitato da un popolo che non ha mai conosciuto la civiltà moderna e che probabilmente resta come custode di quell'antica civiltà il luogo è un luogo leggendario non solo per i peruviani perché è il regno dei Paititi quindi la città più importante ma che nel mito europeo è diventato l'Eldorado quindi la città rivestita d'oro che in realtà è nuovamente figlia di una narrazione distorta perché non è Eldorado la città d'oro anche se in realtà questa era l'abitudine ma è la città dell'Indio Dorado che era la statuetta di Viracocia che guarda caso era stata portata in salvo proprio in quel luogo e anche lì si parla di strutture megalitiche che descriverebbero questa città leggendaria che stiamo verificando in questi giorni è estremamente affascinante esattamente quindi c'è una storia antica in cui le strutture megalitiche avevano la precedenza e questo per tantissimi motivi legati a fattori energetici legati alla necessità di replicare l'astronomia in terra e tante altre cose molto ampio come come discorso però volevo dire che diciamo molto ampio si presta anche a molte speculazioni per questo sto cercando di trovare delle parole senza sì sì in effetti anche a me piace diciamo essere poco cioè per mettere pochi voli pindarici perché poi sono tantissimi no anche sulle figure diciamo si parla molto di Leonardo e di anche dei legami di Colombo con iniziati forme di che per carità tutto ci può stare però va fatto insomma con le pinze secondo me però diciamo volevo tornare al testo no è una prima parte quindi allora è una prima parte di due questo perché nella prima la prima parte sono quasi 400 pagine con 140 immagini quindi è decisamente corposa e non è una prima parte ridondante cioè non è una presentazione di una tesi che poi riprendi nella narrazione io quando scrivo riempio di contenuti e quindi capisci bene che c'è una parte importante di descrizioni che in quelle 400 pagine non ci stavano e quindi ho deciso di scegliere la prima parte come ricostruzione storica documentale utilizzando in parte l'arte a livello documentale laddove fosse necessario nella seconda parte invece confino tutte quelle opere d'arte i contenuti di quelle opere d'arte in cui poi le rappresentazioni che denunciano o testimoniano la conoscenza dell'America e una frequentazione dell'America sono in giro un po' per tutti i musei in maniera tale che non solo diventi una rivisitazione storica ma anche una rivisitazione storico-artistica perché perché è importante che quando si va che ne so agli uffizi a Firenze che è una tappa obbligatoria non solo per noi adulti ma anche per le scuole i bambini i ragazzi le persone in generale sappiano che quando guardano la nascita da vedere i botticelli stanno guardando una denuncia delle scopette dell'America quando guardano la primavera di botticelli capiscano che nel fodero di mercurio c'è un colibri che sfugge la cantuca che è il fiore sacro per gli inca oppure che la testa della vergine gravida è posta al centro di un polmone descritto dalle fronde degli alberi là dove c'è il timo che è una ghiandola importantissima dove si collega quattro chakra quindi quella gravidanza che la venere incarna è una gravidanza spirituale perché il timo come diceva Leonardo è il luogo in cui risiedeva il sito spiritualis quindi nella seconda parte inserirò una continuità presentando le infinite opere d'arte in cui ci sono riferimenti alle Americhe dando anche queste ulteriori letture aggiuntive ma c'è una cosa di cui non abbiamo ancora parlato sono tante sono tante non andremo a parlarne ma è una cosa importante non solo perché la parte conclusiva del libro ma perché è una parte importante proprio nell'evoluzione storica e nella comprensione di quello che è successo in quel periodo cioè nella dicotomia fra l'atteggiamento degli spagnoli e della chiesa da una parte e invece del polo medicio sforzesco dall'altro cioè il fatto che sia gli sforza che i medici hanno messo a capo delle proprie dinastie un indio cioè Lorenzo il Magnifico era un esponente della famiglia reale Inca così come Ludovico il Moro era di quella Asteca e questo è essenziale non solo direi per comprendere perché il Moro era Moro cioè Moro di Carnagione non perché coltivava i gelsi come qualcuno sostiene o perché Lorenzo il Magnifico avesse quelle fattezze da indio vero e proprio perché tutte e due portano in dote un elemento araldico che fino a quel momento non faceva parte dell'araldica cioè Ludovico il Moro la scopetta con cui si purificavano nei rituali i luoghi i vestiti le persone mentre invece Lorenzo il Magnifico la mascaipaccia che è una un cordino d'oro e di lana rossa in cui venivano inserite tre piume di un particolare uccello che rappresentano sempre quella Trinità cui può essere altri morti padre figlio spirito santo eccetera eccetera e questo è essenziale perché perché l'inizio delle frequentazioni da parte degli europei nei confronti delle Americhe era un inizio totalmente pacifico appunto tale che in ordine a quelle alleanze che venivano stipulate anche in Europa le due famiglie Medici e Sforza si sono legate alle famiglie dominanti nelle Americhe cosa che invece chiaramente quelli che hanno condotto la narrazione o le vicende che poi noi conosciamo dopo le vicende di Colombo non hanno fatto in quei termini questo è essenziale perché perché fa sì che tutta una serie di elementi non solo culturali ma anche di vita quotidiana in quegli anni avessero avuto un transfert dalle Americhe verso l'Europa e non viceversa quindi la prima vera e propria colonizzazione è stata l'incontrario in virtù di un atteggiamento totalmente fraterno probabilmente dettato dall'incontro fra quel ritorno alla legge naturale e al culto solare che avevano tutte le famiglie legate a quel movimento rinascimentale primo quindi al culto solare auspicato da Gemisto Pletone come l'elemento che avrebbe riunificato Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente il primo movimento dicevo è dall'America verso l'Europa e questo è importantissimo per tantissimi motivi e non solo in ordine ma quella rispetto della diversità che invece è una cosa che dovremmo imparare a così a a proteggere a preservare in un momento in cui invece l'omologazione e la globalizzazione sta rendendo tutto estremamente piatto sterile e nelle mani delle follie di qualche mega miliardario per fortuna per fortuna non di tutti gli scrittori e tutti i ricercatori per fortuna c'è qualcuno che no per fortuna no però ancora oggi io faccio i conti con qualcuno che invece in queste ore nuovamente specula su questa cosa dell'america specula su delle informazioni che sono completamente diverse e le fa rientrare in una narrazione sensazionalistica che non serve a niente ancora quanto sarebbe più utile diciamo fare quello che fai tu cioè andare a vedere le prove di cose che sono piuttosto anche io non dico evidenti però stuzzicano no l'intelletto di chi si va a fare delle domande che sono piuttosto ovvie a volte esatto allora c'è un il vizio di forma di tutta questa di fondo di tutta questa situazione è legato all'atteggiamento mentale che abbiamo no che è figlio comunque di una dogmaticità allora nel momento in cui tu presenti un qualcosa di nuovo chi è cresciuto nel culto ebraico ti chiederà dove sta scritto ebraico o musulmano cioè di quei monoteismi che hanno un testo di riferimento che diventa assoluto chi è cresciuto nel culto cattolico invece dove conta più l'interpretazione che il testo di riferimento ma perché il testo di riferimento è meno assoluto rispetto agli altri due monoteismi e quindi l'interpretazione prevale allora ti viene chiesto chi l'ha detto perché a seconda di che lo dice è vero oppure non è vero i greci ti chiedevano di dimostrarlo quindi questa cosa ha fatto sì che la forma mentis dell'uomo della società moderna è legata a questi aspetti a la scritto Dan Brown nel codice da Vinci deve essere assolutamente vero oppure l'ha detto il Papa è vero una volta più o meno siamo coetanei quasi più o meno e una volta i nostri genitori le mamme soprattutto erano timorate di Dio ma l'ha detto il Papa ha detto sei matto non si può perché il problema è proprio questo invece andare alla fonte e assumere un'informazione per vero oppure no non in base a chi l'ha detto dove sta scritto ma in base a una dimostrazione pratica cioè gli elementi documentali noi questa criticità oggi l'abbiamo persa e infatti infatti l'informazione quotidiana è piena di porcherie che si contraddicono una con la che si accettano molto più facilmente di altri periodi non solo con una deriva pericolosissima cioè di un senatore a vita della Repubblica Italiana che esce in video e dice l'informazione deve essere meno democratica stiamo scherzando sì quella è stata una cosa molto forte capisci quindi ecco perché allora è importante quel lavoro di ricostruzione che non è fine a se stesso e non deve essere letto come o che due pale la storia ma chi se ne frega se l'America ha scoperto uno e l'altro no perché diventa un elemento invece per maturare anche magari inconsapevolmente perché così funziona l'istinto tutta una serie di informazioni che poi ti aiutano invece nel processo dell'analisi di quello che sta accadendo attorno a noi e poi io una cosa volevo dirti che in realtà questo tipo di di testi di lavori sono molto più interessanti del classico diciamo racconto storico sono molto più avvincenti e il mio parere personale però vabbè è un'utopia e che andrebbero proprio inseriti nei percorsi scolastici sia l'analisi di Leonardo Dante tutte cose estremamente interessanti secondo me anche per un diciamo uno studente che non ha un'età spesso pronta a ricevere alcuni messaggi però trovo che siano molto più affascinanti e formativi allora qualche insegnante lungimirante lo sta facendo qualcuno c'è sì ti invita ti invita a parlarne con i ragazzi o suggerisce ai ragazzi la lettura il fatto che sia più accattivante o meno è legato al fatto che c'è una maggiore onestà di fondo cioè non ti fa cadere un'informazione dall'alto quella è quella che la devi assumere ma ti accompagna per mano nel farla tua e questo è sicuramente più avvincente presenta anche i personaggi in una forma più abbordabile cioè quando tu studi promessi sposi o studi leonardo o studi l'arte rinascimentale a scuola è un continuo elenco di informazioni che tu devi assumere se invece tu le maturi piano piano in un racconto che rende il personaggio anche più umano più accessibile con tutte le sue debolezze le sue fragilità automaticamente diventa più facile assimilarlo cioè non c'è quella barriera costituita dall'obbligo o dall'obbligo scolastico e soprattutto primo fatto non a caso riferimento all'onestà sono informazioni che ti arrivano più pulite questo perché perché ad esempio in una delle tante manipolazioni che viene fatta su Leonardo sulla storia di Colombo ovviamente no ma su Leonardo ad esempio c'è una strumentalizzazione che non è solo figlia della difesa del dogma cattolico ma ad esempio ci sono tutti i movimenti vegani vegetariani terrapiattisti cioè l'omosessualità che prendono Leonardo perché è un veicolo che sotto un profilo così di immagine funziona e quindi fanno mettere a Leonardo in bocca delle frasi che non ha mai citato e quindi ci sono queste citazioni continue in difesa del veganesimo di Leonardo ma cose che lui non ha mai detto e che nei codici tu non ritrovi io per scrupolo ogni tanto vado e prendo delle citazioni c'è un bellissimo programma in cui tu hai tutti i cani e i codici di Leonardo con la traduzione perché poi non è semplice facile e ci sono delle cose che lui non ha mai detto mai questa cosa dell'essere vegetariano omosessuale è priva di qualunque fondamento eppure Leonardo lo ha detto Leonardo quindi ritorniamo al discorso esatto gravissimo fa comodo il problema non c'è scritto io diciamo un po' per chiudere volevo un po' ma abbiamo già risposto diciamo volevo chiederti perché in questo momento diciamo leggere questo libro che io spero abbia diciamo un eco molto ampia però grazie a il discorso è quello che abbiamo fatto cioè fornisce non dico un mezzo però è l'espressione di una forma mentis onesta allora sì in questo momento in cui l'argomento è estremamente presente direi che è un ottimo antidoto nel senso che ti aiuta a maturare quella forma mentis per sviluppare criticità e quindi renderti meno permeabile a tutta una serie di informazioni che cioè noi oggi lo vediamo con questa cosa della pandemia tutto gioca sulla paura no? Io ti instillo alla paura e tu automaticamente lo fai lo facevano è sempre stato fatto esatto prima non a caso ho citato le nostre mamme i timorati di Dio quindi la conoscenza che passa anche attraverso spero questo libro che nasce proprio per condividere inizialmente i miei figli ma poi ha tutti quanti gli strumenti per comprendere come la narrazione storica della storia dell'arte è completamente diversa in realtà porta a sviluppare una criticità e questa criticità deve essere indipendente dalla nostra capacità razionale cioè deve essere un qualcosa che nasce da dentro in base delle informazioni sane e pulite quindi se io vedo lo dicevo prima una mappa dell'America del 1450 non devo per forza di cose essere vincolato a quella narrazione del 1492 è una mappa dell'America del 1450 punto quello è l'elemento forte anche se da qualche parte c'è scritto che l'America l'ha scoperta Colombo anche se qualcuno sostiene che l'America l'ha scoperta Colombo la dimostrazione documentale e testimoniale è che quella rappresentazione dell'America del 1450 è realistica quindi l'errore è nella narrazione quindi va ricostruita quindi la lettura di questo libro o di libri analoghi ma di questo in particolar modo è proprio in questo senso cioè dare tutta una serie di strumenti in base ai quali poi la gente si può addentrare in quell'ambito del mistero che poi è un ambito estremamente speculativo io infatti non suggerisco mai libri intanto qualcuno mi dice ma un libro da leggere un libro io invece si e suggerisco decisamente la mia risposta è un'altra al di là ripeto dell'infinità di fonti documentali anche inedite che ci sono nel libro tanto che appunto la necessità è di spezzarlo in due tronconi certo io dico sempre questa cosa questo è il percorso che ho fatto io ma non necessariamente tu devi rifare il mio percorso perché e lo scrivo all'inizio del libro la bellezza di un viaggio non è la meta ma la bellezza del viaggio è perdersi e saper godere di quello che perdendosi si può imparare quindi se io ti suggerisco il mio percorso automaticamente tu ripercorri quel mio stesso percorso io invece ti do degli elementi per camminare poi che tu faccia la mia strada ne faccia una diversa però l'importante è che ci sia un riscontro inoppugnabile di quello che vai a vedere non perché qualcuno scrive i cinesi hanno scoperto l'America allora devi mettere in discussione tutta questa cosa perché e l'abbiamo detto all'inizio nessuno ha scoperto l'America se uno ti dice i cinesi hanno scoperto l'America i romani l'ha scoperta perché c'è una statuetta con l'ananas vuol dire che non hai capito niente o vuol dire che chi ha scritto quel libro l'avrà fatto punta sua ma quel libro non ti serve a niente veramente veramente interessante ripeto il testo è già disponibile immagino si è già uscito lo si trova su Amazon se qualcuno lo vuole con dedica può scrivermi tu hai io io lo voglio il testo è nessuno ha mai scoperto le Americhe per davvero quindi più esplicito di così diciamo non si può e trovo che sia veramente una lettura Riccardo molto molto formativa perché molto onesta e queste cose secondo me poi risuonano fortemente quando si scrive un lavoro con passione e con onestà proprio che sia molto più utile di mille elucubrazioni anche di tipo scientifico artistico perché secondo me c'è bisogno di questo tipo di studi tutto io ti ringrazio moltissimo diciamo di questa chiacchierata spero che insomma chi la chi la vedrà ha voglia di andare anche a cercare altri tuoi lavori perché hai scritto molto in particolare su Leonardo sono molto interessanti e ci sono anche molte videoconferenze su YouTube che invito a seguire perché sono molto molto interessanti e noi se capiterà magari non è escluso che potremmo risentirci su altri argomenti volentieri parleremo di Leonardo sì perché piace sempre molto Leonardo esatto ti ringrazio Riccardo una giornata e a presto grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille